Ciao! Sì, prima o poi me la comprerò una videocamera però per il momento uso il telefono Allora, comunque, bentornati in questo nuovo video Siamo in un altro video delle offerte questo è il secondo episodio il primo episodio vi è piaciuto un casino, ragazzi un casino Allora, stavolta in quadratura diversa sono proprio davanti il PC Allora, oggi che cosa andremo a vedere? Oggi andremo a vedere dei microfoni perché in Italia, ma come nel mondo gli youtuber crescono non è che crescono sì, ci sono quelli che crescono ma che si creano nuovi canali però le attrezzature costano assai oggi vi faccio vedere delle attrezzature sul costo medio per varie categorie dal computer e dal telefono per il primo pezzo cioè il primo essere che non è in offerta però è veramente un costo bassissimo si basa sui 60 centesimi ed è questo che vi metterò qui e qui non lo so penso soltanto una foto perché è soltanto uno cioè unicolore ed è un microfono per il telefono si attacca al jack e come vedete è anche una cosa per metterlo qui per parlare anche per i youtuber che cominciano a fare prank tipo i The Show questi di qua ed è molto buono cioè veramente molto buono l'avevo prima io cioè questo lo stesso l'avevo prima io che usavo per usare Clash Royale ma ora uso le cuffie quelle della Samsung che danno col telefono e poi vi faccio vedere il secondo il secondo come state vedendo è un microfono col tre piedi che costa otto ore ed è otto euro veramente però veramente poco cioè nove euro e ventuno o otto euro poi dipende dal colore ed è questo di qua ragazzi questo che uso in ogni video si si è veramente un buon microfono anche voi lo sentite dall'audio da quelli che facevano dal computer perché ora mi do un pochettino a rimettere e quindi se vi piace l'audio ve lo consiglio ce l'abbiamo come state vedendo in tre colorazioni ed è molto buono per me comunque mi piace sempre quello nero perché con loro mi fa un po' schifo ultimo microfono questo è un video un pochettino più breve perché i microfoni sono rari cioè vi sto facendo vedere quelli che più o meno ho provato io quelli che posso darvi una valutazione positiva questo microfono come vedete non ha un treppedi ma è una base d'appoggio e questo l'ho avuto ai primi periodi quando avevo un canale youtube che faceva schifo e in pratica caricavo video tipo che facevo cose stupide abbastanza e come vedete questo non ha un cavo jack mi ricordo che anche questo ha un coso per attivare e disattivare che questo non ha non ha per attivare e disattivare cioè per attivare e disattivare il microfono e questo è veramente poco il prezzo spedizione gratuita 2,17 euro comunque l'audio non si sente male per carità cioè io lo dovrei avere ma lo devo cercare quindi non lo so mi secca cioè non lo so se l'ho qua in qualche posto però non lo so comunque ragazzi per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo episodio bella da mega destroyer grazie a tutti